Mister, sta arrivando una partita difficile ma anche stimolante contro una grande squadra che soprattutto in casa fa paura però quest'ascoli ha dimostrato sotto la sua gestione in particolare che non teme nessuno No, noi ci giochiamo, è una squadra nostra coraggiosa, va là poi se gli avversari sono più bravi stringiamo la mano però l'importante è che non viano sui nostri errori, che in alcune partite ci sono stati, ci sono costati qualche punto però la squadra ha voglia di far bene, durante la settimana si allena con grande impegno, grande serietà per cui andiamo a Benevento sapendo che è una partita difficile però che è alla nostra portata Evacuo ma non solo, in attacco sono fortissimi, però dietro qualcosa concedono? È come il calcio moderno, si diventa fortissimi perché dietro ci sono difensori non più tali da chiamare perché adesso i difensori sono molto più tecnici rispetto a qualche tempo fa dove c'erano le marcature spietate e gli attaccanti hanno, diciamo, tra virgolette vita un po' più facile però, insomma, è un male un po' mondiale la mancanza dei difensori dobbiamo essere bravi ad approfittarne quando ci saranno i momenti di difficoltà e soprattutto essere bravi noi a non mandare con una certa facilità loro al tiro Uno stadio importante, tra l'altro costruito da Costantino Rozzi, una tifoseria calda insomma ci sono tutti gli ingredienti per vedere una bella partita Sì, noi abbiamo sempre onorato, è chiaro qualche punto in più soprattutto il calcio di rigore di Viareggio che ancora ci brucia perché due punti in più sarebbero stati importanti però sia a Pisa che a Perugia siamo giocati sappiamo che questa sarà una partita altrettanto difficile perché loro sono una squadra importante da tanti anni non riescono a fare questo salto dalla C alla B però, sono detto, andiamo lì consapevoli e ci saranno momenti di difficoltà ma che altrettanto faremo noi a loro Da punto di vista tecnico può recuperare qualcuno? Come sta Tripoli che hanno elementi importanti in attacco? Tripoli oggi è la prima volta, ha giocato con 20 minuti abbiamo tutto domani, dopo domani Sulla via della guarigione anche se ha saltato qualche allenamento è un fisico che se lo può permettere nel senso che non è un giocatore con un fisico pesante, possente per cui a volte anche una settimana con un paio di allenamenti in meno puoi esserci, poi dipende dalle condizioni della caviglia come starà Andremo sulla stessa falsariga della squadra vista contro il Prato oppure hai in mente qualche soluzione tattica alternativa? Sempre detto, in grandi linee sono quelli non mi piace stravolgere le squadre poi di tanto in tanto un cambiamento, due però in grandi linee saremo quelli Dal punto di vista societario ha avuto modo di confrontarsi con i vertici? Ha avuto qualche tipo di rassicurazione? O la situazione rimane difficile? Non lo so, non lo so e l'ho detto anche altri giorni per me rispetto al primo giorno non è cambiato niente il primo giorno sono arrivato con certe problematiche che ci sono tuttora per cui sapevo a quello che andavo incontro non è cambiato niente I tifosi mi dicono, ma uno come Giordano che vive calcio è stato un grande calciatore chi gliel'ha fatto fare? La passione per il calcio, l'amore per il calcio una certa riconoscenza per questa piazza tante piccole o grandi cose che mi hanno portato a fare questa scelta è abbastanza coraggiosa, però credo che ne valga la pena